L'università trova casa a Conegliano e lo fa all'ex convento di San Francesco grazie all'accordo fra Fondazione Cassamarca con il polo universitario telematico Pegaso. Un polo formativo aperto a tutti, ma in particolare a chi vuole implementare il proprio percorso scolastico per poter concorrere a nuovi incarichi soprattutto nella pubblica amministrazione. Siamo riusciti ad ottenere un risultato importante per tutti i giovani e per tutte le persone che hanno voglia di formarsi e di riuscire ad evolvere nell'ambito della formazione. Nove i corsi di laurea, cento i master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e alta formazione che porteranno a Conegliano nuovi studenti anche da altre province e regioni che potranno utilizzare le strutture dello storico ex convento. Una iniziativa che mette Conegliano tra le sedi universitarie di maggior prestigio ma anche tra le più avanzate sia per docenza che per frequenza ai corsi grazie all'utilizzo della rete. Si aggiunge al panorama complessivo della dotazione e dell'offerta formativa. Credo che sia un'opportunità in più ed è giusto che le porte siano aperte e che sia data la possibilità a giovani e non giovani ad avvicinarsi a questo tipo di offerta. Una struttura universitaria e innovativa che in dieci anni si è sviluppata con corsi che vanno dall'economia alla finanza ma anche alle scienze motorie e alla giurisprudenza. A Conegliano Pegaso ha deciso di investire nella formazione del nord-est. Pensiamo di poter radicare sullo territorio quello che è un'esperienza ormai diffusa e un risultato consolidato che abbiamo ottenuto in Italia ma anche a livello europeo e internazionale.